Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini, in FIPILI code per lavori tra Empoli Ovest e Montelupo Fiorentino verso Firenze, in A11 code a Pisa Nord in direzione Pisa, in A1 verso Bologna rallentamenti tra Calenzano e il Bibio con la variante di Valico Baccheraia e tra Firenzuola e Badia. Sulla strada regionale 429 variante di Certaldo, fino al 12 agosto divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 12,50 e 17,650 circa, nei comuni di San Gimignano, Gambassi Terme e Certaldo. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze e in Viale Belfiore, fino al 28 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra il numero 6 barra C e il numero 4 alla fine del controviale. Ed è tutto, buon viaggio!